Volete tornare a scuola, andrà tutto bene? Sì. Che classe fate? Io terza. Quinta. Non avete più voglia di stare a casa? Volete rivedere i maestri, i compagni? Sì. Anche io voglio rivedere i miei maestri, i miei amici. Perché vorrei rivedere i miei amici. Quasi come se il sindaco Nardella li avesse sentiti, anche se alla manifestazione di sabato scorso in Piazza Santissima Annunziata c'era la sua vice Giacchi, ecco che il primo cittadino di Firenze prova a venire incontro proprio ai più piccoli. In questi mesi di emergenza sanitaria ci siamo dimenticati di chiederci come stanno, cosa desiderano, di cosa hanno bisogno i nostri 8 milioni di bambini e adolescenti italiani. Il primo errore del lockdown è stato quello di mettere i nostri bambini all'ultimo posto dell'agenda politica. Tanto se ne riparlerà a settembre, si è detto. E nel frattempo? Chi pensa a loro? Chi aiuta le famiglie che tornano al lavoro? Chi ascolta il loro dolore? Chi cura la loro tristezza? E allora, come prima cosa, per sdebitarci della nostra indifferenza, restituiamo a tutti un giorno di scuola vero, prima che finisca l'anno scolastico. Un giorno per ritrovarsi nelle aule con gioia, per salutare i compagni diventati invisibili e intoccabili, per sorridere agli insegnanti diventati un'immagine su uno schermo. Idea fattibile, difficile, ma Firenze resta comunque capofila nella battaglia sulla scuola, fin dal giorno in cui partì dal capoluogo regionale una lettera aperta alla ministra dell'istituzione Azzolina per evitare la didattica a distanza almeno a settembre, missiva che raccolse subito migliaia di firme in poche ore. Grazie. Grazie.